Carissimi amici, carissime amiche, salve a tutti, benvenuti sul canale, buona giornata. Antonella di Massa, siamo di nuovo qui, siamo di nuovo qui. Era il 17 di febbraio, sono oggi 72 giorni dalla scomparsa. Sono oggi 61 giorni dal ritrovamento. Ora, io ieri ho fatto l'esempio che se fosse scomparso un gatto, un cane, magari ci sarebbe stato più empatia. Però giustamente mi hanno fatto notare che l'esempio fatto non è molto pertinente perché ho visto tanta partecipazione per il sbagliamento di animali. Qua invece è vero che, per carità, è stato ritrovato il cadavere della donna, però in assenza di qualsiasi altra informazione. Mi scrive Maria Valeria. Possibile che si possa mettere in dubbio quella sua passeggiata da succhivo a panza perché magari c'era qualche altra che indossava il suo giubbino. Non vi so rispondere. Non lo so. Non lo so. Bisognerebbe pensare che non fosse lei, che praticamente ci fosse un progetto così criminale alle spalle da supposito una cosa del genere. Non lo so, forse la realtà effettivamente è molto più facile. Annette mi scrive. Ma lo volete capire che il caso è chiuso perché c'è stata già la cremazione e significa praticamente il caso risolto? Bene. Bene. Ma non risulta. Quello è il problema. Non risulta il caso risolto. Risulta un fascicolo aperto per il momento, per l'istigazione, al suicidio? Non risulta. Non c'è. Non c'è. Ho visto nelle agenzie. Non ci sono due righe in cui si dica caso risolto. No, non c'è. Daniela mi scrive. Gli scrittani sanno che può esserci teoricamente un assassino in circolazione? Lo sanno. Lo sanno. Non lo sanno. Lo sanno. Lo immaginano. O forse no. Magari dicono, beh, quale assassino in circolazione? Povera donna si è uccisa. Bah. E allora? Chi lo dice questo? Non c'è niente. Antonella mi scrive. Per me la chiusura della famiglia è inspiegabile. Ci sono familiari che per anni vanno in tv a fare appelli per la giustizia di un familiare. Certo. Ci sono persone, non voglio fare nome, non me ne ricordo nemmeno, che anche a distanza di anni vanno a chiedere giustizia su delle morti anche sospette, magari già chiuse pure come suicidio, no? E dopo anni casi che vengono di aperti. Ma qui non parliamo nemmeno di un caso chiuso. Emma, Emma mi scrive. Ma può essere che l'unico dubbio della famiglia sia quello di sapere dove è stata per dieci giorni? Che si è uscita e trovata morta è una cosa normale. Cioè, sapere giustamente, avere la curiosità soltanto di sapere dove è stata questa donna. Poi è normale che sia stata trovata morta. E' normale che sia uscita in quelle condizioni, senza fedi. E' normale quella scena, diciamo, la vogliamo chiamare scena del crimine. Quella scena dove è stata ritrovata. E' normale. E' normale che questa donna avesse il classico sacco nero, il classico cordino attorno al collo. E' niente di meno fra le mani. Quella bottiglietta fatidica acquistata undici giorni prima. Vedete, lo so, ne parleremo tutti i giorni, sempre la stessa cosa. Tutti voi avete, per il mio modo di vedere, una responsabilità. Ecco, secondo me avete tutti la responsabilità di tenere accesa questa luce. Questa luce la vogliamo chiamare curiosità, chiamiamola curiosità. Ma fino a quando? Non è una morbosa curiosità, non è un'imvadenza nella privacy delle persone che si va magari a ischia a domandare o a curiosare. No. Fino a che la magistratura non darà delle risposte. E quindi, per tenere accesa questa luce di interesse, non bastano che duemila o poco più di duemila persone guardino questo video. Non basta. Non basta perché è poco. Dobbiamo essere dieci volte tanto affinché qualcosa arrivi alle maggiori trasmissioni, a quelli che si interessano dei casi di cronaca a livello nazionale. Ma avete visto mai voi possibile che un caso di cronaca ad oggi ancora inspiegabile venne assunto in esclusiva, in appalto proprio in esclusiva a una trasmissione della RAI, chi l'ha visto? Che poi viene congelato, di vederci, grazie che ci avete assistito, di vederci, grazie, normale. Ma un congelo senza soluzione. Ma il fascicolo è chiuso. Ma mi sfugge qualcosa. L'inchiesta è chiusa. Viene sollecitata questa inchiesta. Dove stanno? Dove stanno? Dove stanno? Dove stanno? Dove stanno? Tutti coloro che hanno voluto bene ad Antonella. Quanti amici? Quante amiche? Aveva Antonella. Cinque? Due? Una? Dieci? Cento? Mille? Dove stanno? Dove? Dove stanno? Stanno nelle loro case ad aspettare l'asivo dei turisti? Dovremmo dire, vogliamo solo sapere, ma forse è finita e non ce ne siamo accorti. Siamo delle semplici casalinghe e dei semplici casalinghi, tutti quanti dovremmo essere delle semplici casalinghe. Ecco, io vorrei tanto che queste amiche, queste conoscenti, queste donne di Ischia magari facessero un sit-in, ecco, un sit-in di sollecitazione, di sapere qualcosa, di sapere qualche notizia dicendo siamo tutte casalinghe, anche io sono casalinghe, sono anche io una semplice casalinghe, siamo tutti semplici casalinghe, ecco, da semplice casalinghe, perché non è detto che una semplice casalinghe è stata trovata morta, adesso, e che cosa volete che uno vi dica? No, anche le semplici casalinghe, anche le semplici casalinghe devono avere una giustizia. E allora vi voglio ricordare che era il 17 di febbraio, una mattina, quando alle 10.54, mi sembra, esce Antonella, fa dei giri strani, poi viene ritrovata il 28 di febbraio, 28 di febbraio, 1 marzo viene fatta l'autopsia a Napoli, non si sa niente più. I giornalisti sono stati congedati. Oggi sono 72 giorni dalla scomparsa, oggi sono 61 giorni dal ritrovamento, e sono circa due mesi dall'autopsia. A domani, un abbraccio a tutti quanti voi.